Allora, stamattina apro i messaggi privati di Twitter e ne trovo uno di Vincenzo Callea e mi dice, oh guarda, abbiamo fatto il video della canzone nuova, Turn off the light, molto bello, c'è una bella focacciona è la classica patata che non c'entra niente C'è un video che ha una storia e poi c'è questa focazione C'è questa focazione in autoreggenti bellissima, abbiamo pubblicato il nostro video sulla pagina Facebook, questo è il disco, ma ne parliamo sicuramente dopo la canzone Facciamolo Turn off the lights, turn off the light, before someone can see on our heart Turn off the lights, turn off the light, this time I want to see the shine Oh, oh, oh Oh, oh, oh Turn off the light, turn off the light, turn off the light, before someone can see on our heart Turn off the light, turn off the light, this time I want to see the shine I know I know You've lost all your grace, you know You can't find your place, we know When you've lost the light, when you've lost your grace, it's yours When you've lost your grace, it's yours You say turn off the light, turn off the light, before someone can see on our heart Turn off the light, turn off the light, turn off the light, turn off the light, this time I want to see the shine But you can't get it now You say turn off the light, turn off the light, before someone can see on our heart Turn off the light, turn off the light, this time I want to see the shine Turn off the light, turn off the light, before someone can see on our heart Turn off the light, turn off the light, this time I want to see the shine Bene, aspettiamo le vostre prenotazioni per il premio Fidelità e prenderemo la telefonata più tardi Nel frattempo sono molto distratto da questo fermo immagine sulla nostra pagina di Facebook Cascana Way Radio DJ di questa ragazza che mi dà le spalle, Oveglio mi dà il sedere Esatto Vestita un po' in lingerie, molto sensuale Lei ha un paio di autoregenti con una GPR, si chiama Natalia, è una modella di Chicago Ha vinto Misculetto d'Oro, almeno la versione dell'Illinois di Misculetto d'Oro che non so come suoni in americano Beh, comunque diciamo che il messaggio erotico c'è sempre stato, anche nella pubblicità Cioè questa canzone ha un contenuto erotico che non c'entra niente col contenuto del testo del brano Cioè solo per catturare la nostra attenzione È proprio quella serie di video che si innesta nel canalone vincente della patata che non c'entra niente Facciamo un esempio, Satisfaction, Benny Benassi Sì, anche Cioè una passerona focacciosa che trapano un muro Sì, è un doppio segno Eh no, capito, dico, ma cosa c'entra con Satisfaction? Niente Beh, soddisfazione però Eh beh, sì, quelle sì che sono soddisfazioni Poi per esempio quel terroncello di Alex Gaudino che ha fatto Destination Calabria Pieno di ragazze Di focacciosità Anche lì Soprattutto nel mondo della musica, diciamo, leggera dance La pop dance che non ha dei grandi contenuti nei testi, eccetera Metti i culi Grandi divertimento e via Conoscevo una volta questo tizio che possedeva dei villaggi turistici Faceva la borsa del turismo, la beat qua a Milano Tutti gli stand erano pieni di materiale informativo Lui metteva due belle fighe Beh, certo Perché la sua teoria era Metti una bella figa Beh, anche il bottocchio Era sempre pieno di gente E' quello Allora Allora abbiamo istituito sulla nostra pagina Facebook Asgun Way Radio DJ Uno spazio apposito per postare Dei video che il cui tema è La patata che non c'entra niente C'è i video proprio dove la patata non ha alcuna attinenza Ma c'è, serve come lancio del pezzo Serve solo per attirare la nostra attenzione La nostra attenzione Come è successo nel caso di Natalia, modella di Chicago E ci riesce anche È parecchio Ma di brutto anche Facciamo dell'altro perché mi sto rubando Ho della bava qui? Sì, io dall'altro lato Abbiamo la bava in stereo Ha 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 ha